Orro va dall'altra parte per Meners, la bordata in diagonale è stretta, prova a metterci i pulsi Leonardi. Per Ehrman la fast murata, il pasticcio di Gray, poi Mingardi la manda di là, ci sarà una free ball per Monza, Orro può scegliere, vada Meners! Florci Meners! La ricezione di Gray, un po' svirgolata, Bonelli per Mingardi, diagonale è stretta difesa da Meners, che poi va ad attaccare Murata, la copertura di Orro, va Ortman in palleggio in bagger rovesciato per Meners! Mamma mia! Florci Meners! Che cosa ha fatto? Ciao! Ciao!